Sì, adesso prima di darvi queste mie ultime indicazioni, anche io devo ringraziare qualcuno, adesso cerco di essere un po' più sbrigativo. Comunque devo dire ringraziamenti all'associazione allevatori che ha invitato me a giudicare questa loro bellissima mostra. Devo dire ringraziamenti agli allevatori per la bontà degli animali che hanno presentato al mio giudizio quest'oggi. Credo che vadano ringraziati anche i fiteritori alettatori, hanno presentato gli animali molto curati, molto ben dressati e credo di poter dire che sono anche animali presentati da galantuomo, come si suol dire, nessun artificio particolare è stato da me notato durante lo svolgimento di questa mostra. Io sono già venuto qualche volta qua in Tera Piemontese e ci vengo sempre molto molto volontieri, quindi per questo qua ringrazio di nuovo l'associazione allevatori per avermi invitato. Io spero di aver reso colpettibili le mie motivazioni, spesso e volentieri mi ricordo di parlare in un modo un po' meno veloce e spesso e volentieri non me ne dimentico. Adesso ho finito con i miei ringraziamenti, non mi tedi più, do l'ultimo sguardo, vieni con la campionessa riserva e menzione. Senza però dimenticarmi di farvi ancora i complimenti per la bontà degli animali che avete presentato. Grazie Massimo. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Campionessa della mostra assoluta, Lady presentata da Alberto Roberto in comodità con Borcarro. Sua riserva, Bell Iron, ordinata dell'elemento del Tramino, menzione d'onore per Gondunagna dell'elemento Berta Roberto. Grazie a tutti.